Bentornati su MyFootballGersey. Vediamo una maglia retro, anche se poi non è di tanti anni fa. Questa è la terza maglia del Real Madrid per la stagione 2017-2018. E di chi se non di Ronaldo? Grazie a tutti. La maglia è spettacolare. Ho voluto riprenderla perché è uno dei giocatori più forti della storia di una delle squadre più blasonate. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Bellissima, esattamente come si vede in televisione. Il costo lo vedete qui sopra? Ecco, questo invece è incredibile. Molto basso, molto conveniente. Fate voi le vostre valutazioni e decidete cosa fare. Per ordinare la maglia trovate qui sotto in descrizione tutti i riferimenti. Andate a vedere sul sito questa e altre bellissime maglie che vi aspettano. Se volete avere sempre nuove recensioni, mi raccomando lasciate un grande like ma soprattutto iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla ma a noi ci fa fare tutta la differenza del mondo. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti. Grazie a tutti.